Vi abbiamo raccontato dei lavoratori natuzzi e del sit-in che ha caratterizzato l'animato, la giornata di ieri a Roma, ma anche evidentemente sul nostro territorio. E abbiamo ascoltato le voci di alcuni lavoratori proprio in piazza, a Matera, e nei giorni scorsi si è tenuto anche il Consiglio Generale della Cisla BariBat, che ha cercato di fare il punto un po' su quelle che sono le vertenze che conosciamo e che spesso ci troviamo ad analizzare. Spesso le analizziamo proprio con il nostro ospite Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della Cisla Bari. Lo salutiamo. Buongiorno Antonello e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno a te Giuseppe. Un'altra vertenza, un'altra situazione che dura da tempo quella della Natuzzi e vi sono preoccupazioni perché ovviamente il rischio per questi lavoratori è quel rischio che corrono tanti altri lavoratori che hanno a che fare invece con altre vertenze. Sì, purtroppo Antonello, la Natuzzi insieme a tante altre vertenze sta caratterizzando mai da diverso tempo in maniera negativa il mercato del lavoro della provincia di Bari e non solo. Noi proprio come Cis di BariBat due giorni fa abbiamo svolto i lavori del nostro Consiglio Generale e abbiamo voluto arricchire il dibattito partendo dalla voce di chi sta soffrendo queste crisi. Abbiamo dato la parola ai lavoratori della Baritec che purtroppo vivono un doppio dramma, non solo quello di aver perso un posto di lavoro, ma quello di essere stati completamente dimenticati dalle istituzioni. Un minuto dopo che è arrivata la lettera di licenziamento a questi lavoratori, le istituzioni sono completamente scomparse e questo è stato per noi difficile da ascoltare, questo sentimento negativo dei confronti delle istituzioni che stiamo cercando di agganciarle nuovamente per portarli ad un tavolo, però vediamo tanto disinteresse. Non c'era solo la Baritec, c'erano lavoratori della Natuzzi che lamentavano una condizione ormai di difficoltà occupazionale che si trascina da oltre 20 anni, questa è un'azienda che in 20 anni ha quasi dimezzato il suo insieme di lavoratori e lavoratrici, compresi l'indotto e in ammortizzatore sociale da 20 anni. Le retribuzioni di coloro che sono soggetti ad ammortizzatori sociali non superano i 1.100 e 1.200 Euro, capisci bene quanta difficoltà, soprattutto in quest'ultimo periodo, con i linkari su ogni fronte che stiamo registrando. Abbiamo ascoltato anche i tanti somministrati, moltissimi stanno perdendo il lavoro in questo periodo, soprattutto nel settore dell'automotive, somministrati che anziché fare un breve passaggio in questa condizione, se vogliamo, di temporaneità, diventano somministrati cronici, ma alla fine alla prima nube che passa su un mercato di riferimento di un'azienda vengono spazzati via senza poi possibilità di recupero. Abbiamo addirittura messo anche in evidenza quello che è la condizione paradossale della vertenza ExoM che si trascina da 13 anni e nonostante che ci sia un'azienda, la seleccica che abbia gran voglia di investire, qui la regione sta facendo di tutto per ostacolare il percorso, perché non si capisce cosa manchi per dare la possibilità a questa azienda di assumere oltre 100 lavoratori, nel frattempo se ne sono persi altrettanti. Però abbiamo voluto anche evidenziare quali possono essere, quali sono le potenzialità di sviluppo su cui incanalare tutte le azioni di sistema, quindi l'azione di contrattazione sindacale, l'azione di intervento dei fondi regionali, nazionali, del piano nazionale di ripresa e resilienza, uno su tutte per esempio è la questione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo lanciato un allarme, lo temevamo e stanno arrivando i primi riscontri, l'Europa ci ha dato questi soldi, quasi 200 miliardi di Euro, di cui il 60% è giusto ricordarlo, lo dovremo restituire perché è debito con le prossime generazioni, però ci ha dato anche un obiettivo, non solo quello di spendere bene questi soldi, ma soprattutto quello di incrementare l'occupazione. Noi abbiamo un target nazionale di raggiungere oltre 730 mila occupati in più nel prossimo triennio, di cui 380 mila donne e 80 mila giovani, rapportandolo al nostro territorio provinciale dovremo raggiungere 15 mila occupati in più. Cosa succede? Che per raggiungere questo obiettivo è necessario che in tutti i bandi di gara, dove si utilizzano i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, venga prevista una clausola di occupazione aggiuntiva del 30% riservata a giovani e donne, oltre a clausole premiali per assorbire anche i soggetti portatori di handicap. Ora abbiamo verificato in questo primo scorcio di tempo, in tutto il Paese e qui non fanno eccezione, che quasi il 70% dei legali ha completamente eliso questa previsione, perché è vero sì che la legge dà una deroga, ma la deroga deve essere assolutamente circostanziata e deve essere un'eccezione anziché la regola. Quindi le stazioni appaltanti, a partire dai comuni, e questo accade e sta accadendo anche nella nostra provincia e in tutta la regione, stanno facendo di tutto per favorire gli appaltatori, anziché favorire i cittadini che attraverso questi soldi dovrebbero trovare occupazione. Quindi è una denuncia che noi stiamo facendo con forza e stiamo sfidando tutti i comuni, presentando loro un'intesa che vada a governare questa previsione, perché senza questa previsione nei bandi noi avremo sprecato 200 miliardi di Euro e non avremo dato un posto di lavoro ai tanti cittadini che dovranno pure ripagarli poi nel tempo. Abbiamo infine ascoltato la voce del commissario straordinario della Zessa Adriatica Interregionale Puglia-Morise, qui le prospettive sono assolutamente positive, il commissario sta lavorando benissimo. Abbiamo già circa 40 aziende che hanno presentato istanze di autorizzazione, che svilupperebbero in caso di partenza quasi una massa di 400 milioni di investimenti, si parla di 2 mila posti di lavoro. Ci sono stati già delle autorizzazioni avvenute, una su tutte nel comune di Molfetta, dove si avvierà una grande impresa della logistica che dovrebbe assumere 600 posti di lavoro. La Zessa credo che sia un asset e uno strumento di programmazione economica molto utile, finalmente dopo 5 anni si è avviata rispetto a quando è nata, e su questo noi dobbiamo lavorare in maniera anche concertata, rispetto a quelle che possono essere le azioni del sindacato e della contrattazione, perché anche la contrattazione, l'abbiamo detto, può favorire gli investimenti perché può agevolare un insediamento produttivo rispetto ad un altro territorio dove non c'è un buon clima di relazioni sindacali. Quindi le sfide sono tante, però vediamo ancora per il momento le istituzioni troppo slacciate l'uno dall'altra. E' così Giuseppe, il quadro che ci hai fornito è chiarissimo, e chiuderei proprio con un'ultima riflessione rispetto ai dati che avete riportato anche durante quest'ultimo consiglio generale è riferito ai 300.000 persone che non cercano un lavoro e che evidentemente richiede questa situazione, un'analisi più complessiva, che ha a che fare anche con l'azione che mette in campo la task force regionale, in questo caso in Puglia, per l'occupazione? Sì, all'interno del mercato del lavoro della provincia di Bari non ci sono soltanto i circa 50.000 disoccupati, poi ne abbiamo altri 300.000 che risultano essere inattivi. Secondo ultime indagini statistiche, almeno la metà o poco più sarebbero assolutamente interessati a lavorare, quindi parliamo di 150.000, 160.000 che si aggiungerebbero ai 50.000 invece che attivamente lo cercano, quindi parliamo di una platea potenzialmente volenterosa di trovare un lavoro dignitoso, sottolineo dignitoso, di quasi 200.000, solo a Bari sarebbero in tutto 50.000. Ora non dare risposte ad una massa enorme di persone, un numero rilevantissimo, ha solo una conseguenza, non solo un impoverimento del territorio da un punto di vista economico e sociale, ma anche e soprattutto una spinta ad emigrare in tutto il mezzogiorno, e questo avviene anche in maniera preponderante, dobbiamo ricordare che negli ultimi 20 anni abbiamo perso 1.200.000 giovani, di cui uno su quattro per giunta anche laureato e laureato a pieni voti, quindi continuare a mettere sotto il tappeto queste analisi e continuare a vivere alla giornata per la politica o per impegnarsi solo per un loro consenso, significa trovarsi da qui ai prossimi 40 anni un territorio completamente spopolato e assolutamente in condizioni di fragilità economica e sociale, considerando che la popolazione anziana nel frattempo continua a dimecchiare e continua ad essere preponderante rispetto al resto della popolazione. Sarà difficile nel 2040, dove il 33% della popolazione avrà più di 65 anni, con un lavoro che si precarizza sempre di più, con tanti giovani che emigrano, arrivare ad avere una sostenibilità sociale. Rischieremo veramente di creare un futuro di lacerazioni e noi questo non lo possiamo permettere, anche perché i 300 miliardi che dovremo gestire da qui ai prossimi 7-8 anni, tra il Piano Nazionale delle Presse e Resilienza, la programmazione economica 2021-2027, il Fondo di Sviluppo di Questione ci tolgono il pretesto a dire che non ci sono le risorse. Le risorse ci sono, bisogna saperle spendere bene, legalmente e in maniera efficiente. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo lanciato alla politica e ci auguriamo che lo possano cogliere al meglio. Messaggio che lanciamo anche oggi, grazie per il tuo intervento Giuseppe, a presto. Grazie Antonello e speriamo sempre in bene. Grazie Antonello e speriamo sempre in bene.